Parole evolute, ovvero evoluzioni ed involuzioni del linguaggio. È su questo tema che si sta sviluppando una vera e propria kermess, non letteraria, ma di confronto sulla lingua italiana e sui cambiamenti nell'uso e nello sviluppo del linguaggio. I social network sono l'ennesimo canale di comunicazione che abbiamo conquistato, in un certo senso, e gli studiosi lo vedono poi in modi diversi. C'è chi lo chiama una cartina di tornasole dello stato della lingua, chi lo considera come un po', lo considero io, ormai parte della nostra quotidianità e quindi una nostra estensione quasi naturale. Dire che hanno avuto un influsso positivo o negativo, secondo me, è improprio, perché è semplicemente un nuovo contesto comunicativo. Casomai le difficoltà sono in chi esporta certi modi di comunicare tipici di questi canali in altri canali, tipo una K in un curriculum potrebbe essere un problema, però per il resto io la vedo come una grande opportunità. Ragionare sui social media, su come cambia la parola, su come si modificano i rapporti, ma anche banalmente su come comportarsi in un mondo che corre più rapido degli eventi. Su queste basi si è fondata la rassegna a cura della società Dante Alighieri di Andria e svolta all'interno dell'officina San Domenico con il patrocino di Regione Puglia e Comune di Andria. E così si è scelto di studiare il giornalismo satirico di Lercio.it con il pugliese Adelmo Monachesa e il marchigiano Vittorio Lattanzi, per poi passare all'intervento di Daniele Bellasio del Sole 24 Ore con l'analisi di fake news e di bufale da due punti di vista speculari, sino ad arrivare agli interventi autorevoli di Anna Maria Testa, comunicatrice riconosciuta a livello mondiale ed attivista culturale e sociale dei nostri tempi, giungendo anche alla pragmaticità di Bruno Mastroianni. Tanti ragazzi coinvolti attorno ad un tema come quello della comunicazione particolarmente delicato e sentito ma che ha al suo interno numerose insidie e la necessità assoluta di formazione. Diciamo tra online e offline ormai i confini sono saltati. C'è una continuità ed è una benedetta continuità, giusta e importante perché noi siamo sempre gli stessi che stiamo attraverso un mezzo digitale o se siamo in presenza fisica, se stiamo parlando a un pubblico, se stiamo parlando di persona, sempre uno siamo e quello dobbiamo portare in questi differenti contesti, quindi non è una questione di nativi o immigrati digitali ma di esseri umani che migliorano e apprendono sempre di più come esprimersi e come confrontarsi con gli altri.